Salute, mi chiamo Paolo Anto Scorchini, da 17 anni e mezzo e sono liceano, liceo Letizia Bonaparte di Nayaccio e accanto faccio comediante nella truppa di Tarroconi del Teatro Nostrali. Le gorsi che saranno fiori e quindi che la nacchono sono i gorsi, sono i gorsi che hanno la cucchiazza di azotare, la cucchiazza di ciò che dice, e la cucchiazza di a gorsi, e beh, un domanda che è più riche. Manca di, più che bene, mi senti. E l'occhio della zona nata, l'occhio della volontà, l'occhio della volontà, l'occhio della volontà, e l'occhio che ha visto nasce, il paese che mi ha dato la possibilità di scontrare altri gorsi, che mi ha dato la possibilità di scoprire tanti gorsi, che mi fermano sempre cose a scoprire. Non mi piace parte di un paese, non mi piace perché certi polare anni di ti ripiegano a te stesso, non mi piace viajare, mi piace scoprire, ma che sia dazzai curioso, che se polare gli scopi, tutte le gorsi del mondo varie, perché è sempre un più. più tardi, di cioca di un parato, il mio scopo principale è stato di tramandare, perché è stato molto piaciuto il nostro professore. non mi piace parte di gorsi, ma di storia, ma di storia, ma di questo appunto spiegare, dentro di un'avvenimento, dentro di un'avvenimento, e poi più precisamente dentro di un'avvenimento gorsi. ma ancora di là, più tardi, voglio lavorare in paese, poi voglio lavorare per metà e per mille anni. Per un'azola parola, colettivo prima e così quando la persona è giusta e che la sua luta di Cia Rádio esincerà un po' di sabbia per il colettivo. Grazie.